Un video serio perchè è morto un ragazzo che si chiamava Francesco, un ragazzo di 16 anni che io non conoscevo, però io non so capire niente, stanno durando un sacco di ragazzi. Io non so capire niente da questo 2017, solo ragazzi morti, ma come si va da fare? Sul 2017 c'è stata proprio, stanno purendo tutti qua giù, tutti i ragazzi stanno morendo. Francio Frato, Napoli non ti scorderà mai, rimanerà sempre nel tuo cuore. Adesso vorrei dedicarti una canzone, anche se non ci sei più, il cuore di noi napoletani rimanerà sempre vivo. Grazie. 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 Ciao che. Ricordate una cosa. Di te, non ti scorderemo mai.